Ragazzi ciao, piacevole sorpresa al ristoro numero 3 Abbiamo trovato Daniele, che era partito un po' prima di noi Ed era andato sul percorso dei 25 Allora, davanti a noi la grignetta Grignone e Grignetta Esatto, e di là Eccolo il resegone Mi guarda da tutte le parti Anche quando sono a casa in gioceria Vedo il resegone Siamo qui Siamo sul percorso Esatto, siamo sul percorso dei 20 Ed è veramente un bel ballo scenario stamattina Ci stiamo divertendo molto Ti mando un like Ehi, tappacioni della Brianza Siamo in versione ridotta Il buono Marley Dei poveri Daniele dietro a me, eccolo E io Ci vediamo sul canale I tappaccioni della Brianza Ciao a tutti Dov'è il segone? Aspetta che voglio Ingrandire Il mio monte Sì, sì, ti ho rileso Aspetta Reset gap Ci sei, ci sei Ecco Ok Ok Grazie Grazie